Tragico incidente mortale autonomo la scorsa notte a Donia si ribalta con la propria autovettura un 21enne di AC San Filippo deceduto sul colpo. Oasi Cristo Re, 15 giorni dopo la protesta sui tetti di un dipendente, gli stipendi continuano a non arrivare, solo questione di giorni, assicura il commissario straordinario. A Ciriade il gruppo consigliare di Forza Italia ha presentato in consiglio un atto di indirizzo che impegna l'amministrazione a riligere il piano regolatore dei porti. Ben trovati a voi tutti dalla redazione di Reporter, questi gli argomenti principali di giornata, tra gli altri spazio al Giarrese, trema la terra, infatti continua a tremare la terra nel comprensorio Giarrese, altre piccole scosse di terremoto sono state registrate nella notte. A Dacci Sant'Antonio invece ancora un finanziamento nel campo dell'edilizia scolastica in arrivo a fondi per la scuola media Alcide De Gasperi. E poi parleremo dei lavori di riqualificazione, di messa in sicurezza del porto di Santa Maria la Scala ad A Ciriade. I lavori sono stati ultimati, utilizzato un finanziamento europeo. Ma come sentito dai titoli partiamo con l'incidente mortale avvenuto la scorsa notte ad Ognina a Catania. Ha perso la vita un ventunenne di AC San Filippo che si è ribaltato con la sua autovettura. Sentiamo. Viaggiava a bordo della propria autovettura quando, per cause da accertare, ha perso il controllo della Mini Cooper con cui si è schiantato contro un cancello della circonvallazione di Catania, nei pressi di Ognina, dopo essersi ribaltato più volte. Ha così perso tragicamente la vita Andrea Ardita, 21 anni, di AC San Filippo, assai noto in paese perché gestore di una gastronomia-pizzeria nella centralissima via Nizzeti. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Urbana di Catania, giunta sul posto poco dopo l'incidente che si sarebbe verificato poco prima delle 2.30 della scorsa notte. Sono stati prestati tutti i soccorsi necessari da parte dei sanitari del 118, ma per il ragazzo non c'è stato purtroppo nulla da fare. L'autovettura, infatti, si è accartocciata su se stessa, divenendo trappola mortale per il giovane catenoto. La notizia si è diffusa nella prima mattinata da AC San Filippo, lasciando sgomento un intero paese. Non si conosce ancora la data in cui saranno celebrati i funerali nella Basilica di San Filippo da Gira. Continuiamo a parlare di cronaca, continuano i controlli a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini. Ieri sera, infatti, nell'ambito dell'attività di ispezione agli esercizi pubblici del centro cittadino di Catania, è stato controllato il locale denominato la Cantina del Massimo, in via Teatro Massimo. Al titolare dell'esercizio, un 34enne, sono state contestate tre infrazioni per un ammontare complessivo di oltre 2.300 euro. Una di queste è occupazione di suolo pubblico in eccedenza a quanto autorizzato. Altra, invece, è l'aver utilizzato alcuni locali come deposito di alimenti, senza aver comunicato la variazione all'autorità competente. Cambiamo argomento, parliamo dell'IPA Boasi Cristo Re di Acireale. A 15 giorni dalla clamorosa protesta sui tetti abbiamo intervistato Filippo Panebianco, dipendente dell'IPA Boasi Cristo Re di Acireale. Come tutti gli altri deve ancora ricevere le mensilità arretrate, ma parte di queste sarebbero in arrivo, come ha rassicurato il commissario straordinario della struttura acese. 15 giorni fa Filippo Panebianco, manutentore all'Oasi Cristo Re di via Maddem da oltre 20 anni, saliva sul tetto della struttura per riaccendere i riflettori sulle mensilità arretrate, all'epoca 23 e mezzo, vantate dai dipendenti. Dopo un'intera mattinata, barbicato sul terrazzo, scese dal tetto rassicurato dalle rassicurazioni che pervenivano. A breve i comuni avrebbero liquidato parte delle rate pergresse, sia per il mantenimento degli anziani che, in questo caso di una partita di giro si tratta, quelle per l'ospitalità fornita ai minori migranti. Io e i miei colleghi siamo esausti di manifestare raccogliendo solo delusione. Sì, ho manifestato 15 giorni fa sul tetto, ho ricevuto solo delle promesse, che a tutt'oggi, proprio fino a 5 minuti fa, non sono state mantenute. Io voglio ringraziare il sindaco e soprattutto l'assessore Adele Danna per averci preso in giro, fino ad oggi, perché mi era stato garantito che, visto le nostre condizioni, che siamo all'estreme, mi era stato garantito che in pochi giorni venivano fatti dei mandati. Ad oggi non è successo niente. Ma con quale stato d'animo si viene a lavorare in un posto che ovviamente fa parte della propria vita, sapendo che poi il 27 bisogna andarsi a cercare pure i soldi, ma in un'altra maniera. Io francamente cerco di venire a lavorare con buon umore, perché non mi piace venire a lavorare col broncio. Come vedete io faccio il mio lavoro, facciamo il nostro lavoro, come sempre siamo qua a tutt'oggi, lo saremo domani, facciamo umilmente il nostro lavoro. Non è solo Filippo Panebianco a lamentare gli arretrati, ma tutti i dipendenti, persino chi opera all'interno della struttura attraverso progetti finalizzati, che oggi, a causa del mancato pagamento, ha annunciato il licenziamento. Annunciando le mie dimissioni a partire da oggi, garantendo il mio servizio solo fino al 30 maggio, mi vedo costretto a dimettermi dalla mia professione, facendo questo lavoro da diversi anni, perché non ho la possibilità per recarmi a lavorare, giusto che non ci danno uno stipendio. Donatella Milazzo, commissario dell'IPAB Oasi Cristo Reda, lo scorso 4 febbraio, ascolta con attenzione Lella Mentele e racconta ai nostri microfoni il percorso seguito sin qui. Intanto abbiamo avuto una riunione in prefettura con i comuni che avevano dei debiti nei confronti dell'IPAB e rappresentato quella che è la situazione in generale anche nei confronti della regione, dei mancati trasferimenti e di tutto quello che è. La prefettura, devo dire, ne ha abbastanza conoscenza e conoscevano anche questo istituto, che invece è visto come uno degli istituti migliori per l'assistenza che offre. Quindi loro hanno preso il loro impegno nei confronti dei comuni di sollecitare i comuni anche una riforma alla regione che si auspica per salvare questi enti. A proposito del stipendio si parlava di mandati dei comuni che tardano ad arrivare. Allora, i comuni c'erano delle somme per quanto riguarda i milioni esterni non accompagnati, del comune 10 reale, ma i mandati sono già stati passati, sono in ragioneria, purtroppo si incappa in giornate di ferie, ma se non sarà oggi, entro domani, dovrebbero passare dal comune ai tesorieri, quindi non solo ai tempi tecnici, per essere proprio liquidabili e dipendenti, quindi queste saranno le prime somme. Ogni giorno monitoriamo, ogni giorno io stesso da Palermo sono in contatto con il comune 10 reale e gli altri comuni non ci sono grosse mancanze, se non forse l'unico grosso debito è il comune di Catania, che stiamo sollecitando e ci stiamo attivando anche nei confronti orgoglio di questo credito. Continua a tremare la terra nel comprensorio giarrese, nella notte altra piccola scossa di terremoto registrata dai sismografi. Sentiamo. Nel giarrese continua a tremare la terra, notte insonne, quella appena passata, come quella del 15 aprile scorso. Erano quasi le due, infatti, quando il fenomeno sismico, 12 giorni addietro, fu localizzato ad 1,3 chilometri ad ovest di Macchia e ieri erano quasi le due di notte, quando la terra ha tremato. Stavolta però si è trattato di una scossa lievemente più forte, perché di magnitudo 2.5 e l'epicentro è stato localizzato a mezzo chilometro a nord-est di Macchia. La profondità del sisma però è stata comunque superficiale, anche se lo stesso è stato avvertito anche a Giarrecentro. Piccole scosse di terremoto, che per fortuna non hanno causato danni a persone o cose, semmai svegliato qualcuno dal sonno più leggero. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in ogni caso, proprio in queste ore, sta costantemente monitorando questi eventi da fratturazione fino ad ora limitati ad episodi di microsismicità. Quel che pare certo comunque è che le scosse sismiche siano legate ai movimenti delle faglie identificabili nella zona di fratturazione della timpa di San Leonardello, in quella di Contrada Luminaria, dove è presente una depressione tettonica localizzabile presso la faglia di San Leonardello e ascrivibile all'area che abbraccia Trepuntico, da Volpe e Santa Venerina, ed ancora in quella di Fondomacchia, Rondinella-Palombaro e in quella di Fleri, dove nei giorni scorsi la terra aveva tremato nuovamente con i sismografi che avevano rilevato una lieve scossa sismica di magnitudo 2.0 ad una profondità di 3,3 km. Elezioni a Giarre. In una nota stampa, Giarre Benecomune ha comunicato che alle prossime elezioni amministrative del 5 giugno darà fiducia ad Angelo Danna. Convinti, si legge, che il suo progetto per Giarre sia l'unica strada da percorrere per uscire da anni di oscurantismo prodotto dai partiti, dove si è anteposto l'interesse individuale a quello della comunità. Frattanto, ieri pomeriggio, presso la sede del coordinamento provinciale di Catania e di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, si è riunita la commissione elettorale nominata dal partito per procedere allo scrutinio delle schede delle primarie per la scelta del candidato sindaco di Giarre, tenutisi lo scorso 23 e lo scorso 24 aprile, in cui hanno votato 310 cittadini giarresi. La commissione, composta dai coordinatori provinciali Mandio Messina, Alberto Cardillo, Giuliana Salamone e dal delegato all'Assemblea Nazionale Pietro Aci, ha concluso le operazioni di sfoglio alle 16.15, registrando le adesioni maggiori nei confronti di Angelo Danna. Preso atto dei risultati della consultazione popolare, il coordinamento provinciale così ha dato immediato incarico al coordinatore del circolo di Giarre, vale a dire Giuseppe Nicotra, di avviare le azioni opportune per addivenire ad un accordo di coalizione con il candidato sindaco, appunto, Angelo Danna. Adesso ci fermiamo, linea alla pubblicità tra poco per la seconda parte di Reporter. Tutti venerdì alle 21.10 in diretta da Etna Espresso Channel Città Città, il rotocalco settimanale che affronta e approfondisce con ospiti in studio le tematiche di attualità. Tutti venerdì ore 21.10 in replica il sabato alle 16 e la domenica alle 23, online su YouTube e Facebook. Conduce in studio Antonio Carozzo, Città Città, il dibattito. Parte da qui. Quando scegli un paio di occhiali, non ti accontentare. Cerca quella qualità visiva che va oltre il semplice guardare e scoprirai che c'è più vita in quello che vedi. Chiedi al tuo ottico lenti Zeiss. Ottica Grasso, centro ottico Zeiss, per il massimo comfort dei vostri occhi. Adaci Reale, nuovo ampio concept store, in corso Italia 122. Adaci Catena, in via matrice 34. Ottica Grasso, 34 anni d'ottica. Chiedi il programma assistenza Zeiss, fino al 31 maggio incluso nel prezzo, a condizioni esclusive. A028. E cos'è A028? La parte finale del tuo codice fiscale? A028 è il punto d'inizio per chi cerca oggettistica di qualità. È il concept store che ad Aci Reale mancava. Un tuffo nell'oggettistica di design, un covo di idee, una filosofia di vita. A028. Ideale per scegliere il regalo giusto, quello che soddisfa la mente, la vista, il piacere. A028. Oggettistica di design. Corso Umberto 174 Aci Reale. Blu Bar Daci. Viene a deliziarti con le nostre produzioni. Granite, gelati di tutti i gusti, dolci buonissimi, tavola calda e tanto altro. E se presenti il coupon fino al 30 aprile, il caffè te lo offriamo noi. Il Blu Bar si fa in quattro per voi. Dal mare alla collina, in montagna ed ora anche in città. Con Blu Bar Daci. Nuova apertura in via ingegnere Antonio Scalia ad Aci Reale. Prodotti buoni dalla nascita. Di nuovo in studio per la seconda parte di Reporter. Che apriamo parlando di Aci Reale, del Consiglio Comunale. Il Gruppo Consigliare di Forza Italia ha infatti presentato in Consiglio un atto di indirizzo con il quale impegna l'amministrazione comunale a redigere il piano regolatore dei porti. Sentiamo. Il Gruppo Consigliare di Forza Italia ad Aci Reale ha presentato ieri sera in Consiglio Comunale un atto di indirizzo che impegna l'amministrazione a redigere il piano regolatore dei porti, strumento del quale il comune risulta sprovvisto, ritenuto indispensabile per l'accesso ai fondi infrastrutturali comunitari. Il Capo Gruppo Consigliare di Forza Italia Stefano Pennisi, dopo aver fatto presente che presso gli uffici preposti del comune esiste uno studio propedeutico per la definizione del piano regolatore dei porti, commissionato e realizzato nel 2012, comunque ancora oggi adeguato alle esigenze delle marinerie interessate, ha ribadito l'esigenza fondamentale per un comune con ben cinque strutture, tra porti e approdi, seppur tutti bisognevoli, di ristrutturazioni e adeguamenti strutturali importanti, di dotarsi dello strumento, come detto necessario, per l'accesso ai fondi comunitari. Dopo un ampio dibattito il documento è stato votato all'unanimità dal Consiglio Comunale. L'auspicio, afferma oggi Pennisi, è che l'amministrazione ha pronti nel più breve tempo possibile il piano, che metterà in condizione il comune di investire sulle strutture esistenti, accedendo ai fondi europei. Sull'argomento interviene anche il capogruppo consigliare dei democratici, per acireale salvo Seminara. La mozione di Forza Italia, poi tramutata opportunamente in atto di indirizzo, serve, dice Seminara, a colmare il vuoto e la negligenza politica e amministrativa del passato, che vedeva proprio a Forza Italia, quale preponderante forza di governo. L'odierno atto di indirizzo, continuo a Seminara, formulato anche sulla scorta di uno studio commissionato dalla precedente amministrazione, il cui costo si aggirò intorno ai 24 mila euro, per poi rimanere congelato, senza perseguire l'itere definitivo di stesura, rappresenta la rinnovata e a questo punto condivisa volontà dell'amministrazione Barbagallo di riqualificazione dei nostri porti. L'amministrazione, dal suo canto, con l'intervento in aula dell'assessore al mare Nando Ardita, si è detta disponibile, per quanto di competenza, ad impegnarsi nella redazione del piano nel più breve tempo possibile, quindi la successiva e definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale. E a proposito di porti, sono ormai alle battute finale, lavori di riqualificazione messo in sicurezza del porticciolo di Santa Maria la Scala, un'opera finanziata con fondi europei. Sentiamo. Porto di Santa Maria la Scala, sia ormai dettagli per quanto riguarda i lavori che per quasi un anno hanno interessato l'approdo della località marinara posta ai piedi del costone lavico della Timpa. L'opera di riqualificazione messa in sicurezza è stata finanziata con fondi europei per un ammontare di 450.000 euro. La direzione dei lavori, eseguiti da una impresa palermitana, è stata svolta dall'ingegnere acese Giuseppe Puleo, mentre il progetto redatto dall'ingegnere Paolo Battiato. Si tratta di interventi parecchio attesi dalla locale marineria in quanto il porto, a seguito di tante mareggiate patite negli anni scorsi, presentava diverse carenze inefficienze, con la parte terminale del molo persino dichiarata inagibile a seguito delle lesioni provocate dalla violenza delle onde. Si è intervenuti in tal modo per il ripristino di questa parte del porto, oltre poi a riqualificare il piano di calpestio, messo a punto anche un nuovo impianto di illuminazione con lampade di ultima generazione che non consentono il fastidioso fenomeno dell'inquinamento luminoso. Oltre a ciò si è proceduto al recupero di due immobili fatiscenti da tempo non utilizzati, ancora la dotazione di servizi primari utili per le esigenze dei pescatori. Migliorata infine la funzionalità degli attracchi. In ultima analisi così non si è guardato solo il miglioramento della funzionalità per quanto riguarda la marineria più importante operante nella ribera dei limoni, ma anche a migliorare la sicurezza dei luoghi. Fondi in arrivo invece ad ACI Sant'Antonio per la scuola media Alcide De Gasperi, ancora un finanziamento dunque nel campo dell'edilizia scolastica. Un nuovo finanziamento per il comune di ACI Sant'Antonio, da utilizzare per l'edificio della scuola media dell'istituto comprensivo Alcide De Gasperi, sito in via Nicola Maugeri. Stavolta è stato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mediante il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria, a concedere un finanziamento di 187 mila euro. La somma è volta alla sistemazione della copertura dell'edificio e alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 20 kilowatt picco nel terrazzo dell'edificio scolastico. È già stata avviata la gara d'appalto e il progetto già cantierabile necessita solo dei tempi tecnici per avere piena realizzazione. È un finanziamento di notevole importanza, dichiara il Sindaco Santo Caruso, attraverso il quale è possibile continuare gli interventi che già da oltre due anni vengono realizzati sugli edifici scolastici del territorio santantonese. Questo finanziamento è visto come l'ennesimo traguardo raggiunto dall'amministrazione, che ha l'obiettivo, prosegue il primo cittadino, di offrire un servizio migliore alla comunità santantonese e garantire la dovuta sicurezza a quanti bambini, studenti, insegnanti e personale amministrativo frequentano quotidianamente i locali scolastici. Sostiene invece il Vice Sindaco ed Assessore alla pubblica istruzione Michele Quattrocchi che si tratta di un altro intervento mai realizzato nei vent'anni precedenti, che dimostra l'attenzione che questa amministrazione ha nei confronti delle strutture di competenza comunale e tiene a ringraziare i dipendenti degli uffici di competenza ed in particolare il geometra strano che ha validamente affiancato gli amministratori lungo tutto l'ITER. Adesso è tempo di fermarsi ancora una volta, tra poco per la terza e ultima parte di Reporter. Il centro analisi SAEM del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di Via Marchese di San Giuliano 21, Aci Reale, vicino la Biblioteca Zelantea. Centro analisi SAEM del dottor Antonino Di Carlo. Apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Centro analisi SAEM, Via Marchese di San Giuliano 21, Aci Reale. Il nostro giardino è stato trasformato in un angolo di paradiso. Ci ha pensato vecchio piscine, non più solo piscine, grazie ad un'equipe specializzata e al nuovo showroom Arredo Style per l'arredamento esterno ed interno. Arredi, vasche idromassaggio, saune finlandesi al miglior prezzo sul mercato. Vasche ornamentali, gibus, la stanza del sole, tende, pergolati, elegantissimi ombrelloni FIM. Arredo Style by Vecchio Piscine. Arredamenti per la casa e idee regalo originali. A giarre all'uscita del casello autostradale. Per info 095 97 02 123. Bella la vita! Profili, ha cambiato look. Ora è nel nuovo showroom, sempre in corso Savoia, ma al numero 157. Con più spazi e una luminosissima esposizione di oggetti prestigiosi e di classe. Servizi di piatti, bicchieri, posate, anche per il quotidiano. Oggettistica, oltre a un grandissimo assortimento di raffinatissime bomboniere, per ogni circostanza, da impreziosire. Profili. Da 30 anni, con i nostri oggetti, abbiamo arredato le case di tante famiglie. Profili. Nuovo showroom in corso Savoia 157. Fino al prossimo 14 maggio, da Tomarchio Ottica e Fotografia OXO, ad ACI Reale, c'è una straordinaria promozione Vista e Sole. Acquistando un occhiale da vista con le lenti antiriflesso, avrai, con soli 5 euro, le stesse lenti graduate per un occhiale da sole. È straordinario! Tomarchio Ottica e Fotografia OXO, ad ACI Reale, in Corsa Italia 18A e B. Promozione valida fino al 14 maggio 2016. Regolamento interno al punto vendita. Se avete scelto l'Etna come meta, passando per lingua glossa, fermatevi al Garden Bar. Lo trovate di fronte alla villa, in via Roma 216. Garden Bar. Dalla scuola pasticcera accese, centinaia di prodotti buonissimi da gustare in ogni momento della giornata. Dalla colazione alla tavola calda. Dalla rinomata granita di mandorla agli aperitivi. Dalla pasticceria con produzione giornaliera, alle paste di mandorla, ai gelati tutti i gusti. Angolo riservato alla vendita di articoli perfumatori. Se passate per lingua glossa, vi aspettiamo al Garden Bar, in via Roma 216. Fermatevi! Grill Food. Dalla storia delle macellerie Cannavò, dopo il pronto cuoci, l'ultima novità. La prima griglieria da asporto ad ACI Reale. Sceglie quello che vuoi. In pochi minuti sarà cotto dal nostro personale specializzato. Grill Food e anche gastronomia con panini gourmet, primi, secondi e contorni. Aperto a pranzo e a cena. Prova il nostro servizio a domicilio. Con un supplemento di 50 centesimi a box, puoi ricevere la tua ordinazione direttamente a casa. Ordina anche con WhatsApp al 331 42 45 126. Torniamo in diretta per la terza ed ultima parte di Reporter. Officina ciriale all'attacco dell'amministrazione comunale sulle politiche commerciali attivate nel centro storico. L'amministrazione però risponde prontamente e parla di accuse strumentali. Sentiamo. Vocazione turistica, isola pedonale, cambiamento. Sono questi i temi centrali, argomenti di punta del documento di denuncia che nei giorni scorsi Officina Cireale ha destinato all'amministrazione accese. La necessità di confrontarsi ed entrare in concorrenze con i grandi centri commerciali è la vera sfida di un'amministrazione realmente interessata a difendere la vocazione commerciale del suo centro. Così esordisce il documento tagliente di Officina Cireale che ha sentito il bisogno di denunciare le politiche commerciali portate avanti nel suo centro storico. Ed è con questo documento che suona come una richiesta più che come una denuncia che l'associazione chiede una presa di posizione di tutti gli operatori affinché si possa aggiungere ad un'inversione di rotta. Le politiche dell'amministrazione, volta al commercio e al turismo, sono sconnesse e sono solo meri annunci, si legge nel documento. Da qui il riferimento alla pista ciclabile, definita come illegittima, pericolosa e scarsamente utilizzata. Con Officina Cireale ci siamo preposti a denunciare la morte del centro storico. Nonostante il certo successo della manifestazione della festa dei fiori, non esiste una politica commerciale che possa dar vigore al commercio acese nel centro storico. Infatti abbiamo fotografato le numerevoli botteghe chiuse del centro, delle vie principali. Inoltre il sindaco dice che la carta degli impegni si prefigge di abbattere i costi del suolo pubblico, ma sappiamo che non è così. Quello che chiediamo noi è un maggior impegno sulla politica commerciale, perché non possiamo permetterci di avere le vie principali del centro storico, del nostro bellissimo centro storico, ridotte in questo modo. La risposta del sindaco Roberto Barbagallo arriva puntuale, definendo le accuse strumentali. Forse perché queste arrivano proprio durante le giornate della festa dei fiori e rimanda le accuse al mittente. Chi denuncia sconosce il percorso avviato con la carta degli impegni, dice il primo cittadino. Il documento per aiutare gli imprenditori commerciali interessati ad affittare le botteghe sfitte. Nello stesso percorso è inoltre inserito l'abbattimento del suolo pubblico. Si strumentalizza il tema ZTL, che sarà oggetto solo di sperimentazioni nel periodo estivo e sarà condiviso con tutti i commercianti. Nelle parole del sindaco, riprende officina Cireale, si evidenzia una mancata visione di insieme e la mancanza di qualsiasi programmazione. Il sindaco sostiene che con la carta degli impegni si sia raggiunto un obiettivo fondamentale, dice Giuseppe Franchina. Ma ciò non è vero, perché per incentivare le politiche commerciali va, sin da subito, rivisto il regolamento sui De Orse, proposto nello specifico regolamento sull'abbattimento del suolo pubblico. Siamo lontani, aggiunge Franchina, dalla promessa dell'organizzazione di una manifestazione al mese. Passare dalle parole ai fatti, quindi, grazie ad una gestione più accorta, è questo quello che infine auspica officina Cireale. Ci spostiamo adesso a Capomulini, lungomare di via Garitta, si interviene per la sistemazione della ringhiera degradata. Sentiamo. Via Garitta a Capomulini, le istanze avanzate nell'ultimo periodo da Cireale dal consigliere comunale Nino Sorace hanno sortito l'esito auspicato. Infatti il consigliere Sorace si era rivolto alla Polizia Municipale, ancora ai vertici dell'ufficio tecnico, al fine di evidenziare la pericolosità esistente per i passanti, evidenziata pure da diversi cittadini, viste le condizioni di degrado della ringhiera metallica, in più punti peraltro parzialmente assente. L'argomento era stato sollevato pure in consiglio comunale, sollecitando in dal modo un'azione di somma urgenza. In un primo tempo l'assessorata a lavori pubblici diretta da Nandardita aveva inteso procrastinare l'intervento, essendo indispensabile un'azione consistente di recupero. Ora però, alla luce di un sopralluogo svolto unitamente ai tecnici, appurata così effettivamente la pericolosità esistente, si è deciso quindi di intervenire immediatamente. Come ha avuto modo perciò di sostenere l'assessore Ardita, si è già al lavoro per predisporre un progetto che interessa la ringhiera dell'intera via Garitta, per un'estensione così di circa 150 metri. Anche la zona di ringhiera con tubolari apparentemente sani sono mal ridotte, per cui si è giustamente preferito procedere alla sostituzione nella sua interezza. Naturalmente si prevedono tempi brevi, così da sistemare il tutto nel volgere di due o tre settimane. Cambiamo argomento, interessante seminario sul 71esimo anniversario della festa della liberazione al liceo scientifico Archimede di Acireale. La resistenza continua, vista come impegno civile in una società libera, è stato il tema trattato. Sentiamo. Si è svolto ieri, presso l'aula magna Giuseppe Blanca dell'iscio scientifico Archimede di Acireale, un seminario sul 71esimo anniversario della festa della liberazione. L'avento si inserisce all'interno del progetto Il valore della memoria per una cittadinanza attiva, che vede i giovani studenti impegnati nello studio della storia contemporanea. L'incontro è stato patrocinato dal comune di Acireale. Forti le parole dell'assessore alla pubblica istruzione delle Danna, che ha riportato la volontà dell'amministrazione di riservare ai giovani uno spazio di coscienza critica sempre più ampio e volto a rinnovamento nella comunità locale. Ella ha asserito che la resistenza ci appartiene da sempre e per sempre. Non si tratta più di una resistenza armata, ma di una resistenza al pensiero stereotipato e ad una visione manichea dei fatti. Presenti anche Antonio Tomarchio e Maurizio Musumesci, presidente dell'AMPI di Acireale, che dopo aver condiviso degli estratti da diversi discorsi del costituente Calamandrei, ha invitato i ragazzi a parteggiare per la giustizia e per l'uguaglianza. Importante è il lavoro di ricerca condotto dai giovani studenti, che hanno rilevato interessanti dati sulla resistenza nel meridione, focalizzando principalmente la loro attenzione sulla presenza partigiana nella città di Acireale. La memoria è fragile ed esposta al negazionismo, ma la resistenza continua, tra le note di Simone Speciale, un giovanissimo studente del liceo che ha trasferito in musica la sua scelta di difendere la memoria. Orgogliosa è la professoressa Marinella Asciuto, docente di storia e filosofia e referente del progetto, che ha apurato come lo studio della storia condotto in modo pragmatico induca i ragazzi a divenire cittadini attivi. Il progetto Il Valore della Memoria è nato nell'anno scolastico 2009-2010, sotto la presidenza di Lorenzo Marotta, ed è proseguito sotto la presidenza di Riccardo Biasco. Quindi questo dà il segnale della continuità al progetto che ormai dura da sette anni e che lungo questo periodo si è riavì arricchito nel contributo di tutti i docenti del Dipartimento di Storia e Filosofia del liceo. Il Valore della Memoria si è quindi completato con un sottotitolo che ci sembra sempre più importante, per una cittadinanza attiva. Cioè noi vogliamo approfondire quelle che sono le date della storia contemporanea che fanno da cesura del nostro presente. Parliamo di sport adesso, si giocherà domenica prossima 1 maggio alle 16 la finalissima playoff di Girone tra Sicula, Leonzio e da Ciriale. Dopo un accordo tra le due società dunque la Lega ha concesso di posticipare di 24 ore la gara, inizialmente in programma per sabato 30 aprile. Da oggi pomeriggio dalle 16 alle 19 intanto presso lo stadio Tuparello è possibile acquistare i tagliandi in prevendita per la trasferta di Lentini, costo del biglietto di 7 euro. Botteghini che domenica prossima all'Angelino nobile di Lentini saranno chiusi. Si è concluso in maniera positiva nei giorni scorsi invece il campionato provinciale di pattinaggio a rotelle, corsa su pista con tutte le categorie in gara svoltosi a San Giovanni La Punta. Bottino di 13 medaglie per la Galatea Ciriale, 2 d'oro conquistate dal capitano Natalia Condorelli, 5 argenti con Giulia Di Salvo, Gaetano Miraglia e Marianna Camelia e 6 medaglie di bronzo conquistate da Marco Puglisi, Melissa Strano, Michela Carpinato e una nella gara americana squadre femminili. Un bel traguardo raggiunto ha commentato il presidente e coach della Galatea Ciriale, Massimiliano Trovato, peccato aver lasciato altre due medaglie certe per le cadute nelle gare di destrezza di Giulia e Michela. Ottimi piazzamenti inoltre per Giorgia Carpinato e Gabriel Dagata giunti al quarto posto, bene anche Beatrice Marino giunta terza insieme a Natalia e Giorgia nella gara americana squadre e un bravo anche a Giovanni Re alla sua prima gara ufficiale. Siamo in chiusura, è tempo di andare a conoscere le previsioni meteo per domani. Cielo molto nuvoloso con possibilità di pioggia nel pomeriggio, venti deboli, temperatura in aumento alla minima a 15 gradi, stabile la massima a 18, mare poco mosso. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, vi ricordo che è possibile farlo anche alla nostra pagina Facebook ufficiale, e anche per darvi la possibilità di rivedere in qualsiasi momento tutte le edizioni in archivio del nostro telegiornale che torna domani puntuale con una nuova edizione alle 13.40. Rivederci. Grazie a tutti.